Ormai tutto è pronto e è iniziato il locconto alla rovescia che ci porterà tra poche ore al grande giorno, il giorno più bello della città di Torre del Greco, il giorno in cui la città recupera, ricorda e celebra la sua identità, il giorno e la solennità della festa dell'Immacolata Concezione. La vedete alle mie spalle, trionfante sul carro che quest'anno solennemente sarà portato in processione. Ormai tutto è pronto e tra poche ore ci sarà il tanto atteso momento della girata, un momento che sintetizza fede, storia e tradizione di Torre del Greco e del popolo torriso. La tradizione, la tradizione è innestata perché fa parte dell'aspetto umano, la fede che è una realtà spirituale si esprime attraverso anche le tradizioni con la T maiuscolo, le grandi tradizioni della Chiesa e anche le tradizioni della religiosità popolare come la nostra festa dell'Immacolata. E la girata del carro lo sappiamo, no? Alle 14 quando i fatti finivano di lavorare ma anche quando sentirono le prime esplosioni dal Vesuvio e quindi è tutto un intrecciarsi di ricordi, di sensazioni, di tradizioni familiari, cittadine. Quindi innanzitutto la dimensione della fede, l'Immacolata Concezione. C'è una realtà bella, pulita, piena, che porta valori alti e nel nostro popolo sono ancora presenti questi valori così belli. Anche il nostro Vescovo e tutti quelli che stanno venendo a celebrare si meravigliano di trovare una basilica piena di sera alle otto e mezza a fine giornata. È uno spettacolo di fede. E poi culturali. Ecco c'è questo aspetto culturale, la bellezza dei nostri carri, no? Dove ogni anno gli artisti a cui viene affidato il bozzetto danno il meglio di loro. Quest'anno questa barca su un mare calmo, ecco, anche se la vita talvolta ci fa camminare su un mare tempestoso. Se nella barca c'è Maria che porta Gesù, il mare diventa calmo. Ecco parroco sul simbolo della barca, il suo augurio, il suo messaggio di speranza per un nuovo anno che si rinnova anche in prossimità del Natale. Il carro in particolare quest'anno ha proprio tutti i segni della nostra città. Il corallo, il corallo, il rosso del corallo, ma anche il rosso dell'amore, della passione, che noi dobbiamo mettere nelle cose che facciamo, nel modo di vivere. C'è tutta una schiera di angeli perché il tema è nome dolcissimo. Dai cori angelici dice il canto a cui si ispira il bozzetto e anche la realizzazione di Riccardo Lamberti, dai cori angelici lieta armonia. Dietro non poteva mancare la roccia del Vesuvio con le ginestre e con i fiori e i profumi della nostra terra. L'auspicio che però non è come quegli auguri formali o quegli auspici così simbolici oppure un po' anche magici. No, l'auspicio mio che si fa preghiera e che ognuno di noi possa fare su questa nostra terra benedetta la propria parte perché possa rispondere non solo ai bisogni, alle esigenze sociali, umane, economiche del territorio che sono importantissime, ma io penso anche alla sua vocazione spirituale. Non ci dimentichiamo del nostro parroco santo, non solo il grande onore, ma anche la grande responsabilità che noi abbiamo di rispondere alla santità, allo stile di vita, allo stile pastorale, alla carità sociale di Vincenzo Romano.